Gli investigatori della DDA di Roma hanno eseguito nella capitale 16 provvedimenti di custodia cautelare in carcere degli arresti domiciliari emessi dal GIP del Tribunale su richiesta della DDA di Roma nei confronti di un'associazione criminale dedita stabilmente ed in forma organizzata alla Commissione nel territorio capitolino di delitti di usura e riciclaggio. L'operazione Old Canning, questo è il nome dell'attività investigativa del Centro Operativo di Roma avviata dal 2012 che ha consentito di fare emergere l'esistenza nella capitale di un gruppo organizzato in stretti rapporti con personaggi noti negli ambienti della malavita romana oltre modo indicativi della caratura criminale dei capi del sodalizio e dalle forti capacità di presa sulle vittime dei prestiti usurari. Tra i suoi vertici anche la figura di Benedetto Stranieri, già tratto in arresto nel gennaio del 2015 dalla DDA di Roma per concorso esterno in associazione mafiosa su ordine della DDA di Catanzaro nell'ambito delle chieste a Emilia. Ex maresciallo dei Carabinieri, diventato poi avvocato e legale del noto boss di Indrangheta, Nicolino Grande Aracri. Nel corso delle indagini svolte con l'ausilio di attività tecniche di intercettazione telefoniche ed ambientali sono state individuate molte vittime, tra cui politici ed amministratori locali, commercianti e privati cittadini in sofferenza economica che venivano continuamente vessati mediante condotte intimidatorie e distorsive per ottenere il pagamento delle rate concordate per la restituzione del debito. Il tasso surario applicato variava dal 70 al 150% annuo. L'indagine trae le mosse dalla figura di Antonio D'Angeli. Attraverso questa figura gli uomini della DDA di Roma hanno infatti individuato una grossa organizzazione criminale dedita principalmente all'usura e che vedeva il coinvolgimento, oltre che di personaggi di notevole spessore criminale legate alla banda della Magliana, anche di due direttori di banca. Questi ultimi agevolavano le missioni di Mutui senza alcuna garanzia nei confronti delle vittime, allo scopo di consentire all'organizzazione di recuperare i profitti illeciti, omettendo fra l'altro di segnalare le operazioni finanziarie sospette poste in essere da alcuni degli indagati. Al vertice dell'organizzazione, Benedetto Giovanni Stranieri, che nel suo studio di avvocato a Roma incontrava giornalmente Antonio D'Angeli e l'altro principale socio Roberto Castorini, ai quali dava indicazioni e ordine circa le modalità dell'attività di usura, concordando anche gli interventi nei confronti dei debitori insolventi.